è la mia moneta no è la mia è mia no è la mia no è mia 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 la mia moneta la mia è mia no è mia ehi vedo qualcosa jason cosa vedi alex vedo due prigionieri che litigano per una moneta e non è nemmeno la loro moneta alex andiamo a prenderli restiamole per beni ok dovremmo essere molto silenziosi la mia moneta è la mia è la mia prendiamo le forze oh no detective scappa 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 non posso prenderla è tanto veloce ragazzi e tu torna subito qui vieni fermati sono stanco l'ho persa ragazzi li ha seminati ho preso la moneta sono riuscita a scappare ma non ho più la mia moneta la recupererà però non sono riuscito a prenderla era molto veloce nemmeno io sono riuscito a prenderla saliamo in alto cerchiamole di nuovo ok andiamo sì ce l'ho fatta eccola la mia moneta oh no quella è Sara ridammela subito avanti alla mia moneta no sì no sì ridammela dove sono Jason fammi controllare le vedo Alex eccole lì prendiamole dobbiamo prenderle questa volta hai ragione Jason ma come ci nasconderemo e poi le prenderemo ottima idea bene andiamo lì ti prenderò te lo puoi scordare ecco di tesoro ecco di qui no lasciami in pace ti lascerò mai più no andrei nella cella numero uno hai capito no non voglio non mi piace il cibo in prigione andrete in prigione e ridammi questa moneta ma io non voglio i prigionieri vanno in prigione e la moneta andrà restituita al proprietario esattamente no non voglio entra pure ben fatto bene ecco qui è solo colpa tua no è colpa tua no è colpa tua non mi hai dato la moneta devo andare in prigione per colpa tua lo sapevo è solo grazie a te no è grazie a te ragazzi smettetela subito ok scusa scusate molto bene Alex abbiamo fatto un ottimo lavoro le prigionieri andranno in prigione e noi abbiamo recuperato la moneta la ridaremo al proprietario e voi iscrivetevi a Jason Vlogs alla prossima sto guidando un'auto della polizia noi siamo la polizia 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 dove siete ladri aspettiamoli qui sì aspettiamoli qui ufficiale polizia io sono un poliziotto salve agente salve agente vuole mangiare qualcosa sì vorrei mangiare delle ciambelle ok prenderò le ciambelle sono le migliori della città ho preso le ciambelle agente sembrano buonissime sediamoci lì agente penso che saranno davvero buone alla salute agente cin cin andiamo a mangiare qualcosa forza sì facciamo forza ehi guarda la polizia andiamo a vedere sì andiamo forza ehi due agenti di polizia prendiamo le ciambelle buona idea buono il cioccolato aspetta guarda lì altre ciambelle mi piace così tanto il cioccolato scendiamo qui molto bene tu vai di là vado lì ok ottimo ah sì ottimo siamo troppo grandi ehi la nostra macchina qualcuno la sta prendendo ehi 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 la polizia che cosa forza forza è ora di andare hanno preso la macchina hanno preso la macchina non ci credo hanno preso la macchina hanno preso la nostra macchina sì ce l'abbiamo fatta ottimo lavoro fratello sì dobbiamo trovarli e prenderli ma come facciamo ok sai cosa che andremo a cercare andiamo da questa parte ok andiamo dobbiamo sbrigarci li prenderemo ne sono sicuro li prenderemo sì li prenderemo forza forza di qua di qua li prenderemo ne sono sicuro questo è un bel posto sì niente polizia qui e abbiamo le cianvelle dove sono cavolo sono laggiù guarda oh eccoli andiamo forza corriamo le prenderemo ne sono sicuro forza corriamo corriamo fermo 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 c'è la macchina della polizia esatto andiamo a prenderla facciamo silenzio però tu vai da questa parte e tu vai da quella ok forza sei pronto sì e tu lo sei sempre come te allora prendiamoli uno due tre oh no adesso andrò in prigione l'ho preso e adesso tu salirai in macchina e chiaro sali lì dentro salici ok e anche tu sali lì dentro forza ecco fatto andrete in prigione chiaro oh no ci hanno preso no 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 non ci credo bene agente ottimo lavoro e adesso portiamoli in prigione forza sì ce l'abbiamo fatta sì sì li abbiamo presi stop che sta succedendo vedi quello che vedo io sì ciambelle no i diamanti i diamanti esatto i diamanti ma c'è troppa polizia non ti preoccupare seguimi jason abbiamo lavorato per dieci minuti facciamo una pausa andiamo ma che mangiamo? beh che ne dici di ciambelle? certo mangiamo le ciambelle prima nascondiamo i diamanti va bene forza prendili tu uno verde due blu blu tre rosso bene nascondiamo i diamanti al solito posto andiamo bene nascondiamoli qui va bene perfetto mettili qui ok l'hai capito adesso ma certo nessuno potrà trovare i diamanti questo è certo nessuno tranne noi uno uno due tre nessuno lo troverà dai mangiamo una ciambella forza andiamo vieni hai preso le ciambelle? sì le ho prese salute questa è la nostra occasione ok andiamo cominciamo qui a scavare dai sbrigati amico ce li abbiamo prendili e usciamo di qui ciao ehi tornate subito qui poi vieni qui si mi hai preso fermati andrete in prigione dammi i diamanti andrete in prigione andrete dritti in prigione no e invece sì in prigione forza andate in prigione e chiudiamo la porta no fatemi uscire no non rubate i diamanti la prossima volta esatto non rubateli no liberateci e no no